It's hard to breathe, but that's all right E bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Spinets08 Quest'oggi ragazzi siamo con un nuovissimo video Oggi signori siamo tornati con la Champions Sono contro il Tottenham Andiamo, vai Mamma mia Oddio No No Va a te Ma da denuncia questo Da questa è la goal netto È da denuncia questo proprio È da denuncia Oh mio Dio Salah Shakiri No Può ricevere la posizione interessante Shakiri Scendente ai budello Delle vostre mamme Ederson Ederson No No Godo Oddio L'avevo vista dentro No 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 Bravo Vai Eh ti ha fatto male a passargliela all'uno Fa una s***a Basta 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 Mi ha rotto i c***i Basta Io che dovevo fare il cambio ancora non l'ho fatto eh Io non ho fatto il cambio Forza Non so cosa può succedere di tutto Eh appunto Appunto Ma oddio Ma sono un attacco di cuore Vai Veloce Tecnico da fisico imponente Ederson 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 Son 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 No 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 Ecco appunto Bravo Fava Bravo Era meglio se tu la lasciavi Ecco ora questo qui si fa a 3.000 km a corsa E tanto li conosco io ormai Eh ma li conoscerò Vai Allison Oddio Ma basta sti coccoloni eh Basta Ma bravo Allison Mmm raga Aiuto Via No Ma vaffanculo ma che c***o è successo me lo fate capire cosa è successo C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool Cosa sbagli Cosa sbagli Ecco Righi Attenzione tutto solo No perché Perché ma come si fa a sbagliare una palla del genere Dai Ederson Ti prego non dirmi Non dirmi che è fuori gioco Ti prego dimmi che è gol Dimmi che è gol Sì signori Sì signori L'avete capito benissimo L'avete capito benissimo tutti Al novantesimo se si pareggia sono passato io L'avete capito tutti signori No Oh madonna E' ancora lì Bravo Mamma mia Virgil van Dijk Uno dei difensori più forti al mondo Certo anche te amico mio fai dei cross di m***a eh Fattelo dire Anderson E ora mi sa che è proprio chiusa E ora è chiusa Attenzione meglio in campo E' Anderson Jordan Anderson signori E ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre lasciate tantissimi mi garba E iscrivetevi al canale Attivate la campanella e le notifiche Instagram appare il tag fra 3 2 1 Eccolo qui sopra Eccolo qui sopra Noi ci vediamo ad un prossimo video Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.